Salve, io sono Roberto Piccinini, vicepresidente della Fondazione e adesso c'è il mio intervento in cui illustrerò sinteticamente questo progetto di legge, meglio di disegno di legge che abbiamo elaborato con la Fondazione. Facendo un flash sulla situazione attuale e avendo anche letto scorso le relazioni recenti della Corte dei Conti e del Presidente Giampaolino, si legge in queste relazioni che si parla di una gestione della macchina pubblica improvvisata, io ho segnato solo delle note, delle frasi, dagli sprechi della sanità ai falsi invalidi, dai costi di consulenza inutili per centinaia di migliaia di euro, milioni di euro, corsi di formazione non fatti, truffe europee e quant'altro, se non l'inesistenza di controlli sui bilanci pubblici dei partiti politici, tristemente famosi anche in questi giorni. Si parla, nelle relazioni della Corte dei Conti, di un Paese che non sa come spende le sue risorse. Il panorama è veramente pessimo. I sistemi di controllo attuali, ce l'ha spiegato anche Scalia, non solo non sono adeguati, ma vengono adottati e implementati con grave ritardo. Quindi c'è da intervenire sui tempi, c'è da intervenire sulle strutture, sulla logica di questi sistemi. Non c'è un sistematico coordinamento tra le diverse funzioni di controllo europeo. Ecco, non ho commentato il primo, che è forse quasi il più importante, cioè l'importanza dell'organizzazione di adeguate procedure. E allora, il governo Monti ha lavorato sul riequilibrio finanziario, sta lavorando in questi giorni, in via definitiva, sulle liberalizzazioni, peraltro piuttosto complicate, sulla semplificazione amministrativa, sta lavorando contemporaneamente sul mercato del lavoro. Bene, allora noi diciamo, come fondazione, che probabilmente ora è tempo anche di avviare una riforma organica in materia di controlli nel settore pubblico. Il 52% del PIL è fatto dal settore pubblico. Poi, non ho i dati, perché non si trovano neanche a livello di studi, quanto vale complessivamente i miliardi di euro il settore privato e quanto il settore pubblico, chiamiamolo così, indotto, però ragionevolmente possiamo guardare le figure e quindi questo 49-48% di ulteriore PIL viene generato dal settore privato e molto dal settore pubblico, chiamiamolo indotto. E allora che vuol dire? Vuol dire che se non interveniamo subito e in maniera incisiva sul comparto pubblico in materia di trasparenza e di controlli, il 52% se non il 60-70% del nostro prodotto lordo italiano o comunque delle nostre attività non funziona, non è controllato. Bisogna curare tutto ciò che sta dentro la macchina organizzativa e quindi dentro gli enti, dentro le pubbliche amministrazioni. E cioè la pianificazione e la programmazione e quindi la gestione operativa. E quali sono le componenti di un sistema di controllo interno? Sono l'ambiente di controllo, l'organizzazione, è un'attività, noi abbiamo chiamato di auditing interno, abbiamo e abbiamo distribuito una proposta normativa. La nostra proposta riguarda tutti gli enti destinatari di risorse pubbliche, quindi sia quelli centrali che quelli periferici, sia le imprese pubbliche, sia gli enti pubblici, così come gli enti locali, così come i partiti politici. Quali sono i punti chiave di questa proposta? Innanzitutto la realizzazione di un modello appunto di organizzazione, gestione e controllo. Gli esperti di questa materia richiamano immediatamente alla normativa del decreto legislativo 231. In effetti la logica è simile, cioè si tratta di dare ad ogni ente pubblico, ad ogni amministrazione, un modello di organizzazione che deve essere seguito e implementato. Questo modello, sulla base di un'analisi dei rischi, deve servire a prevenire rischi operativi e rischi anche di commissioni dei reati. E quindi adesso si parla di anticorruzione, di inasprimento di pene, va bene, però è inutile che inasprisco le pene se non metto in condizione l'ente pubblico e l'amministrazione di essere ben organizzato da quel punto di vista e di evitare preventivamente che si realizzino i reati. Introduzione di questa figura di interna loditi anche sulla scorta della prassi anglosassone e internazionale e che è un po' il presidio, cioè una figura, una funzione nuova che in ogni amministrazione deve presidiare l'intero sistema di controllo interno. Una sorta, dico io, di carabiniere del sistema di controllo interno. E poi l'enfasi sulla formazione, e questo è fondamentale, quindi prevedere per legge che ci debba essere un adeguato piano annuale della formazione, che questo piano annuale di formazione debba essere aderente alla realtà operativa e debba essere implementato. Per noi questo è componente del sistema di controllo interno, così come la massima indipendenza e professionalità dei responsabili del controllo strategico e di revisione contabile esterna. Così come prevedere una sorta di limitazione anche agli incarichi, per quello che dicevo prima, sia per ciò che riguarda in questo caso i revisori esterni legali, sia per ciò che riguarda i membri dell'organismo indipendente di valutazione, ex legge Brunetta 150 del 2009. Prevediamo un massimo di 5 incarichi, perché non è possibile che ci siano delle persone o delle anche società che ne abbiano 10, 15, 20, 30 di questi incarichi. E poi da ultimo il coordinamento di questi controlli e immaginiamo, e questa è stata una scelta autonoma, ci siamo solo confortati dopo con i rappresentanti della Corte dei Conti, Corte dei Conti, immaginiamo che il coordinamento di questi controlli non può che essere dato alla Corte dei Conti, che è l'ente massimo che presidia i controlli pubblici in Italia.